Eh sì, un'assonanza, vabbè. Meglio di niente. Bisognava trovare qualcosa per circenza. Un po' di pangrattato? Dio, ritardato? No, l'ha già detto ritardato. Un po' di pangrattato? Un po' di pangrattato? Dio pelato. Un po' di pangrattato? Sì, impossible. Cioè, è impossibile. Speedback! Ecco, cioè, è impossibile. Poi, in tutta, no, 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 non farlo. Volevo fare Dio Führer, no. Volevo fare Dio Führer, no.